Altre notizie importanti, si è appena concluso l'incontro tra la Federazione Gioco Calcio e il Comitato Tecnico Scientifico dove hanno analizzato il protocollo proposto dalla FIGC per la ripresa degli allenamenti di squadra, cosa che auspicabilmente dovrebbe avvenire dal 18 maggio. So che c'è stato un confronto molto importante, molto approfondito, con molte richieste da parte dei medici e dei scienziati alla Federazione Gioco Calcio, adesso il Comitato Tecnico Scientifico sulla base di questi approfondimenti ottenuti stenderà una propria valutazione che verrà formalmente inviata al Ministro della Salute, come sempre capita per qualunque tematica che affronti il Comitato Tecnico Scientifico e quindi poi immediatamente dopo il Ministro della Salute la renderà noto a noi, al Ministro dello Sport e a tutti quanti. Quindi io mi auguro che si siano risolte le questioni problematiche che erano state evidenziate e che quindi il 18 possano riprendere anche compatibilmente all'evoluzione nei prossimi 10 giorni dell'emergenza sanitaria che speriamo appunto ci dia tutti i dati positivi e soddisfacenti da quando abbiamo riaperto il 4 maggio. Ecco, mi auguro che questi approfondimenti possano essere utili a stabilire che il 18 maggio possano riprendere gli allenamenti non solo di squadra del calcio ma chiaramente tutte le altre discipline sportive.